Un altro colpo di scena nella complicata vicenda FIMER che vede in ballo il destino di oltre 300 lavoratori. Il fondo Greybull McLaren ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli azionisti per l'acquisizione del 100% dell'azienda. Ora, ferma nella nota ufficiale, sono necessarie le dimissioni dei rimanenti membri del CDA per finalizzare l'operazione. L'azienda, che ha stabilimenti a Terra Nuova a Bracciolini, nella Retino e a Vimercate, Monza-Brianza, lavora nel settore degli inverter solari. L'avvertenza va avanti ormai da quasi due anni, pochi giorni fa, l'annuncio dell'accordo con il fondo di investimento Clementi, adesso un nuovo scenario. I termini dell'accordo prevedono un investimento di 50 milioni di euro, dei quali 10 subito disponibili. Per procedere con l'offerta, McLaren chiede le dimissioni dell'attuale CDA a dimettersi. Intanto è stato Luca Bertazzini. Quando ho saputo della scelta degli azionisti, ha detto, contattato dalla nostra redazione, ho prontamente rassegnato le mie dimissioni. E' pur vero, prosegue, che a quanto so l'offerta di Greybull è significativamente migliorata rispetto a quella precedente, sia in termini di fondi che di garanzie. Tuttavia, conclude Bertazzini, ritengo che l'offerta del fondo Clementi dovesse essere perseguita, a meno che i soci non abbiano individuato criticità a me sconosciute. Siamo riconoscenti, dice ancora il fondo Greybull, a Luca Bertazzini per aver rassegnato le sue dimissioni. Attendiamo fiduciosi che i due amministratori rimanenti, Giovanni Varriale e Pierre Brochet, completino il loro lavoro e adottino le misure necessarie per consentire a FIMER di andare avanti e sopravvivere.